Ciao a tutti, sono Rikukun e sono tornato dopo un pochino di giorni sul canale con Killing Floor 2. Prima di iniziare volevo dirvi che ho iniziato a lavorare, se non riesco a caricare troppi video insieme sapete perché. Detto questo iniziamo con questo video e in questo video vi farò vedere questo nuovo update di Killing Floor 2 che si chiama Incinerate and Detonate. Sono uscite due nuove perk, vediamo subito, non ho ancora visto niente del menu nuovo. Ok, allora, infatti queste sono le quattro perk che erano uscite con l'uscita del gioco, diciamo. Berserker, Commando, Support, Specialist e Field Medic. E adesso sono usciti il Demolitionist che c'era anche in Killing Floor 1 e il Firebug che c'era anche in Killing Floor 1. Adoro l'icona che gli hanno messo. Dovrebbero essere uscite anche delle cose nuove, infatti ecco qua, per i personaggi. Allora, questo è un personaggio di Red Orchestra e viene dato solo a chi ha Red Orchestra su Steam. E invece questo, no scusate, invece questo è un personaggio di Chival Remediable Warfare. Anche questo personaggio viene dato solo a chi ha Chival Remediable Warfare. Quindi sono due personaggi diciamo promo, se vogliamo chiamarli così. E credo che userò... No dai, per il Firebug uso Mr. Foster, mi dispiace. Ok, sapete cosa vi dico? Giocherò da solo. Sì, perché non ho voglia di pingare. Quindi, long, mettiamo Catacombs. Wow, fighissima l'immagine qua. E sì, iniziamo. Firebug livello 0, vediamo un po' come l'hanno trattato su Killing Floor 2. Cioè, ci hanno messo veramente un casino. Io non pensavo ci mettessero così tanto a fare stop date. Quando hanno detto, ragazzi, sta per uscire Incinerate and Detonate. Minchia, ho detto, bella, tra una settimana abbiamo il Firebug e il Daymoment. Invece abbiamo dovuto aspettare tipo 3-4 mesi, ma che cazzo. Un'attesa lunghissima. E insieme a questi personaggi, perk e mappe nuove, è uscito anche un nuovo, diciamo, motore fisico, da quel che ho capito. E quindi vediamo un po' cosa ci propone il gioco. Ecco, oh, questa arma prima di tutto non l'ho mai vista, perché nell'uno non c'era. Non mi sono neanche guardato le armi, gli skill tree delle perk, anche se le avevano già rilasciate da un po' di giorni. E quindi sarà tutto nuovo. Dobbiamo un po' vedere anche come spara sta arma. Ovviamente sono in normal, perché, vabbè, con la perk a livello 0 non mi andava di iniziare... Uh, è tipo un mini lanciafiamme. Figo, è tipo un laser. Oh mio Dio. Ma hanno tipo cambiato la voce di Mr. Foster? Non lo so, mi è sembrato di sentire una voce... Boh, il volume è troppo basso per definirlo. O avrò tempo per capirlo. Comunque, che figa sta arma iniziale. Molto figa. Tipo un mini lanciafiamme molto più comodo da usare. E credo sia anche abbastanza leggero. E adesso vedremo con i blot cosa succede, perché a quanto pare quelli più influenzati dal nuovo motore fisico, tra virgolette, sono i blot. Cioè, tipo, quando esplodono rilasciano un marcello di schifezza. Però con il lanciafiamme non possiamo proprio farli esplodere. Lasciatemi solo controllare un attimo le impostazioni grafiche. Ok, infatti ragazzi ho dovuto riavviare il gioco, perché a quanto pare con questo update mi aveva risettato tutte le opzioni e mi aveva messo alcune... alcuni particolari della grafica non al massimo e anche la cosa nuova, tipo dell'NVIDIA, con il motore fisico di cui vi parlavo, disattivato. Quindi ho dovuto riavviare il gioco e quindi siamo di nuovo all'ondata 1. Non è un problema, ci metteremo un attimo a tornare all'ondata 2. Tanto in solo arrivano veramente pochissimi Zed. Quindi... NP. Torniamo subito all'ondata 2. Sono curioso di vedere le nuove armi del firebug, oltre a questa. Perché sicuramente ci sono armi nuove del firebug, anche se non le ho viste. E non vedo un cazzo, sto spammando fuoco. Cazzo, mi chiedo come farò con gli Scrake. Gli Scrake sono veramente troppo forti in questo gioco. Adesso che dal mio ultimo video su Killing Floor 2, in cui vi ho narrato le vicende, è passato un po' di tempo insomma. Ma vi posso dire che gli Scrake sono veramente fortissimi in questo gioco. A meno che non li abbiano fixati con questo update, ma non lo so. Poi dovrei avere come bombe le Molotov. Quindi alla prima occasione le usiamo. Allora ecco, vediamo un po'. Qua c'è il Trench Gun, sì cazzo! Poi c'è il Flamethrower, che c'era già. E il Microwave Gun, che figata è sta roba, scusami. Ok, proviamo ste Molotov, dai. Ah, che belle, soddisfacenti cazzo! Ah ecco, poi, per livellare il firebug, oltre a fare danno con le armi da fuoco, cioè proprio fuoco, bisogna uccidere i Crawler. Interessantissima come cosa. Tipo nell'1 c'era per livellare il commando dovevi uccidere le Stalker. Così identico, riportato anche in Killing Floor 2. Qua hanno voluto aggiungere un modo alternativo, cioè aggiuntivo, come volete chiamarlo, per livellare il firebug. Uccidere i Crawler. E' una chiarissima citazione a una frase che si usa di solito su internet, ma anche perché no nella realtà, quando si vede qualcosa di schifoso, ovvero i ragni, tipo, visto che così tanta gente ha la fobia dei ragni, si dice uccidilo col fuoco. Ecco perché hanno voluto farlo. Cioè, è sicuramente una citazione a quello. Li conosco troppo bene, quelli della Tripware, per non fare una cosa del genere. Oppure farla senza pensarci. Perché tutte le cose di Killing Floor sono più pensate di quello che la gente pensa. Oh mio Dio, ho usato una ripetizione che non volevo fare. Ecco, l'unico problema del firebug è che, cioè, quando vuoi fare tanto danno in poco tempo non puoi. Devi attaccarti. Ok, prendiamoci sta trench gun, che è tipo una delle mie armi preferite in assoluto di Killing Floor 1. Peccato che non abbiano messo le flare gun. Le flare gun erano veramente fortissime. Cioè, erano tipo i revolver che sparavano proiettili di fuoco e facevano un danno della madonna. Pesavano pochissimo e le potevi prendere praticamente con tutte le classi, che era tipo una cosa potenziatissima dalla pistola normale. E tipo, le potevi usare anche contro il patriarca per dargli fuoco, anche se non avevi un firebug. Così potevi vedere dove era mentre era invisibile. Cioè, è veramente utile le flare gun. Sicuramente le rimetteranno, perché probabilmente metteranno tutte le armi di Killing Floor 1, prima o poi in Killing Floor 2. Hanno anche cambiato leggermente la voce della trader, ma non credo sia una doppiatrice diversa, credo sia semplicemente degli effetti che hanno messo la sua voce. Madonna, ma quanto è stretta sta mappa in alcuni punti. Poi, purtroppo non si può mettere la torcia con la trench gun. Mi sembra che nell'uno si potesse fare, ma non sono sicuro. Che figo sto trader. Tipo in mezzo all'acqua, le caverne. Figo, figo, figo. Oh, è vero. Dimenticavo. Ci sono anche quei cosi lì. Sono i classici... Oh mio Dio. I... come cazzo si chiamano? I... 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 i Dosh Blinks. Mamma mia. E... e... Oh! No, non voglio morire. Oh mio Dio, muoio. Eh sì, muoio. Cazzo, cazzo, cazzo. Allora direi di provare... Oh mio Dio, cos'è? Team Awards. Che cazzo... Boh, vai a sapere. Non lo so. Capirò meglio cosa sono queste cose. Player stats. Ah beh, sono tipo dettagli. E hanno messo il map vote. Ottimo. Direi, visto che è durato così poco, di provare anche evacuation point. E di provare il demoman. Uh, la bomba è la dinamite. Aspetta, io la voglio provare subito. La dinam... No, che bello è. E questa pistola, non lo so perché, mi ispira sessissimo. Ah, un colpo solo. Oh mio Dio, allora è tipo uno sparapetardi. Che figata è! No, scusa, eh. Ma che figa è sta cosa? Li distrugge gli Zed. Li polverizza. Certo, non devo spammare... Beh, cazzo se ne frega. Spamma colpi. Però non trapassa gli Zed, a quanto pare. E non mi fa neanche danno, tipo, se mi esplode vicino. Scusa, eh. No, non mi fa assolutamente danno, anche se c'è un'esplosione gigantesca. Gli Zed vanno in mille pezzi. Io invece non mi smuovo di un millimetro. Giusto. Sì, si chiamava Demolition su Kill in Floor 1. Io lo chiamo demoman. Già, vediamo. No, solo... Ah no, ok, no. Dicevo. Ah, ma sono solo tre, ma in realtà va, perché una ce l'ho addosso. Allora, sì, le granate sono le dinamiti. Mamma mia, che figata. Poi c'è il C4, che a quanto pare è un'arma. Boh. Ok, poi c'è, vabbè, l'M79 e l'RPG. Va bene. Che figo, l'RPG. Però pesa veramente tantissimo. Ok, a quanto pare la nuova arma, che non c'era proprio su Kill in Floor 1, no, vabbè, l'RPG proprio non è che c'era, c'era il low, però è sempre un lanciarazzi. Invece il C4 dovrebbero averlo completamente reworkato. Quindi vediamo un po'. E direi di prendere cinque, cinque dosh, prendiamo un coso della pistola. Oh mio Dio, un ask. Beh, glielo tiro addosso. E poi col destro esplode, wow, ok. Ho compreso. Abbastanza, abbastanza diretta come cosa, mi piace. Però non è spammabile, perché ho solo tre colpi. Però shotta gli ask, porca proie. Ecco, ok, vabbè, il Daimoman mi piace il fatto che l'abbiano tenuto così com'era, ovvero lentissimo. Non puoi fare un cazzo senza non ricaricare. Senza ricaricare. Ok, e per livellare il Daimoman hanno deciso di mettere i Flash Pound. Come, diciamo, come metodo alternativo o aggiuntivo per livellare più in fretta la perk. Giustamente, visto che i Flash Pound, se non lo sapete, subiscono molto più danno dagli esplosivi. Direi ti tirai un C4. Mamma mia. Ah no, dietro la gente. I crawler merdosi. Ma non si capisce, un porto, un ospedale, tutto. Ti tiro un C4 in faccia. Oh mio Dio, non ha avuto nessun senso di gravità quel C4. Però ho fatto implodere l'ask. Mi piace troppo come esplodono, mamma mia. Voglio provare l'M79, come l'hanno fatto su sto gioco. Avrei dovuto comprare munizioni, eh. Boom. Ecco, vedete, anche con quest'arma qua, un colpo, una ricarica. Quante granate ho? Ne ho... 5. Sì, ho 5 granate. 5... Oddio! Che cazzo! Sta reggiando, merda! Ah, è stato l'ask. Oddio no, gli ho tirato il... Facciamo così. Porca puttana. Il problema degli Scrake da fare col demo è che devi averli lontani per poterli colpire. Non è morto. Non è morto, cazzo! Devo in qualche modo scollarmelo di dosso e colpirlo da lontano. Ok, forse ho fatto una curva abbastanza stretta, sì! Crepa! Guardate quanto è fiero sto coso enorme. Bombe atomiche spara, probabilmente. Mi cagano le armature che adesso scomparirà, mi sa. Sì, infatti, vaffanculo! Vai! Vai! Stalker levati! Boom! Madonna, ho ucciso tutto! Anche il pullman è morto. C'ho dietro di tutto. Una katana. Eh, vabbè, dovevo farlo, ragazzi. Mi sono tipo... Sparato con l'RPG sotto ai piedi, però dovevo farlo. Perché non riesco a curarmi? Oh mio Dio! Perché non riesco a curarmi? No, non dimmi che mi sono messo... Sia l'abbass... Oh, no. Oh, no, non mi posso abbassare. Cioè, non mi posso curare. No! Il flash pound! Eh, vabbè, ciao. Sono morto. Sono mortissimo. Non mi posso curare! Porca Eva, devo mettermi il tasto per curarmi. Ok, ci siamo! Posso curarmi! Ma un flash pound di... Aiuto! Si può fare. Non è infattibile sta cosa. Devo solo avere culo... Che la mappa sia a mio favore. Beh, dai, non mi fa neanche tanto male il flash pound. Ce l'ho appiccicato al culo e ho 90 di vita. Tipo, in qualsiasi altra situazione sarai morto, invece sono in normal, quindi... Oddio, levati! C'è un flash pound dietro. No, ho fatto una stronzata, vabbè. Mi sa che in qualche modo l'ho colpito il flash pound con la dinamite. O qualsiasi cosa io abbia tirato. Ok, 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 dai. È una buona posizione per ucciderli. A meno che il flash pound non sia così vicino, madonna. L'ho ucciso? Mamma mia, fa così male sto RPG. Vabbè che sono in normale da solo, però... Un colpo di RPG per un flash pound? No, ok, eccolo. Minchia l'ho shottato, ma che cazzo è st'arma? Boom, aspetta, ho un'idea. Ma se io... Piazzo C4. Eh eh, ci ho pensato, eh. E poi compro le munizioni. Oh, altri C4, lol. Ok, sappiamo come fare Volter, ragazzi. Oh mio Dio, sì, sì. Le pipe bomb sono tornate sotto altre spoglie. I C4. Ok, livello 1. Va bene. Tanto per non fare schifo, insomma. Tirano il livello 1. Oh, miseria! Preferisco la mia stessa pipe... Cioè, la mia stessa dinamite è un flash pound addosso. Ho fatto esplodere un pianeta, più o meno. No, qua c'è da ridere, porca troia. Vai! No! Cazzo, ci ho provato. Vaffanculo. Oh, merda, è arrivato l'amico. Oh, l'ho ucciso. Bene. A quanto pare gli era già arrivato un colpo vagante di RPG. Ok, siamo a Volter. Ora sapete cosa farò. Piazzerò C4 su C4 in quel punto e basta. E aspetterò che ci passi Volter. Secondo me è perdono. Non lo so, sta impressione. Oh, c'è anche il boss. La descrizione. Bene, hanno aggiunto cose carine. E hanno anche fixato quel bug stupidissimo in cui si vedeva Volter che tipo scivolava sul terreno dopo che... Oh, lol. Si è vista veramente la cosina. Oh! Ok. Si può fare! Oh mio Dio, si può fare. Si può spammare l'esplosivo, che bello. Tipo tutti a spammare tasto destro per far esplodere tutti i C4. Anche se non sembra che gli abbia fatto molto danno. Gli ho tirato di tutto, gli ho tirato già. Oddio! Ah no, ok, ok, si deve curare adesso. E infatti adesso si vede finalmente che ha lo scudo di merda. Oh, va bene, ha più senso già. Cioè, quando si cura, fa vedere che ha lo scudo. Perché prima la gente gli spammava addosso di tutto mentre si curava. Erano colpi sprecati perché non subisce danno mentre si deve curare. No! Ciccato! No, lo voglio troppo uccidere con il C4. No! Via, 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 via! No, non è morto, cazzo. Se fosse morto con le cariche di C4 sarebbe stato bellissimo. Invece l'ho ucciso con l'RPG. Va bene. E' andato in mille pezzi. Che bello. Eccomi qua. Salto razzo! Non si può fare, ok. Vediamo se hanno tolto quella cosa che ti fa correre senza nessun motivo alla fine. Ok, sembra che l'abbiano tolta. Ti dice tutte le varie cose che hai fatte, insomma. 294 kill, un assist. Come cazzo ho fatto a fare un assist? Vabbè, ok. Ho ucciso 15 Zed grossi, quindi Flashpound, Scrake, a quanto pare. Danno, Dosh, Headshot e vabbè, un boss. Grazie, ho ucciso il boss. I personal best ci sono, è anche figo. Quindi questo era il nuovo update. Figo, molto molto bello. Adesso inizierò a farmi tutte le varie mappe in tutte le varie difficoltà. Inizierò a livellarmi come un animale le perk nuove. E... bene. Da Raycucone è tutto. Ci vediamo al prossimo video.